Juventus, tutta la lista del mercato di Cea Giomotta. Cea Giomotta, futuro tecnico della Juventus, ha individuato Cup Miners e Calafiori come obiettivi prioritari per il mercato estivo. Cea Giomotta è il nuovo l'allenatore della Juventus, ma nelle conversazioni con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già delineato le sue priorità per tutto il mercato estivo dimostrando il suo piano già dall'inizio. Motta, noto per la sua capacità di adattarsi ai giocatori a disposizione, ha identificato due posizioni chiave che necessitano di rinforzi. Un centrocampista per sostituire Pop Oba e un difensore sinistro per rimpiazzare Alexandro. I nomi in cima alla lista sono Tenkup Miners e Riccardo Calafiori. Oltre i già presi Douglas Lewis e Keida Thurum, in attesa di ufficializzazione. Tenkup Miners e Riccardo Calafiori, obiettivi principali. Tenkup Miners, il centrocampista dell'Atalanta è il primo nome sul taccuino di Motta. La Juventus ha già avviato le trattative, ma la valutazione di 60 milioni di euro da parte dell'Atalanta rappresenta un ostacolo significativo. Tuttavia, il gradimento del giocatore per un trasferimento in bianco-nero potrebbe facilitare l'accordo. La Juventus potrebbe anche offrire Di Nuigsen come contropartita tecnica per abbassare il prezzo finale. Riccardo Calafiori, la versatilità del difensore del Bologna lo rende un obiettivo ideale per la difesa di Motta. Calafiori è in grado di giocare sia come centrale che come terzino sinistro, offrendo flessibilità tattica. La Juventus ha già ottenuto il sì del giocatore, ma convincere il Bologna a cederlo sarà una sfida. La trattativa potrebbe richiedere tempo e negoziazioni dettagliate. Altre mosse di mercato, Di Gregorio e le opzioni in attacco. Oltre a Coup Miners e Calafiori, Motta ha espresso la necessità di un portiere abile nel gioco con i piedi per facilitare la costruzione del gioco dal basso. Michele Di Gregorio, portiere del Monza, è stato individuato come il candidato ideale per questo ruolo. Con i suoi 26 anni, Di Gregorio è considerato pronto per diventare il titolare della Juventus. In attacco, Joshua Zerksi è un obiettivo potenziale, ma solo in caso di cessione di Milik, sull'esterno occhi su sanco del Manchester United. Motta preferisce anche lavorare su soluzioni interne come Timothy Weah e Federico Gatti, a meno che non si presenti un'opportunità conveniente per acquistare Giovanni Di Lorenzo dal Napoli. In ogni caso, il nuovo tecnico è pronto a plasmare la squadra secondo la sua visione, adattandosi alle risorse disponibili.